Ciao! Allora, non ho preso solo quei vestiti degli orsetti del cuore al Toy Center, sì ho speso, vabbè, lasciamo vendere perché ho preso anche altra roba e lasciamo perdere su quanto ho speso, mamma mia, che costano, costano parecchio. Ne ho presi due per Ken, che sono della nuova collezione, e poi due di Barbie che sono della nuova collezione di... che bello, Vazmaru, è fantastico! Della nuova collezione di De La Sario e Chocot, Chocot, che carini, sono troppo belli questi! Questi costavano 15 euro, cioè, va bene. Allora, quelli di Ken, vabbè, c'è scritto Ken, Ken e Ken, ce n'è uno che c'è scritto Malibu, California, che si rifà al posto dove abita Barbie. Qua ci sono questo paio di scarpe che sembra un tipo delle All Star, ma c'è scritto Ken, fantastico! E poi questi pantaloncini, mentre qui c'è una camicia con i fiori, dei mocassini tipo, e dei pantaloni lunghi, adesso. Poi vi faccio vedere anche questi qua, vabbè, qua c'è anche... che bello! La borsetta con Bazzmaru, bellissima! E poi qua, invece, c'è Chocot Cat, che non si capisce... ah no, è un vestito, ok? E c'è la borsettina a cuore, è molto carina, ha un paio di occhiali, è anche qui. Bene, ora, stoppo, perché qui mi sa che ci vorrà un bel po' per aprire. E stoppo, e poi sono di nuovo da voi. Ok, ora, cominciamo con quelli di Ken. Spostiamo questi. Comincio con questi. Allora, qui, come potete vedere, c'è la scarpa con il logo Ken, che però praticamente è simile ad una Converse. Poi c'è la... la t-shirt, con scritto Malibu California, 1961. Molto carina, sì, un po' meno che dietro, sia nera. Potevano farla sfumata come il davanti, ma vabbè. Comunque, la stoffa, devo dire che quando ho tirato fuori i vestiti, la stoffa non è male, anzi. Quindi il prezzo è giustificato. Poi ci sono questi pantaloncini, che sono tipo jeans, insomma, come stoffa è stile jeans. Abbastanza rigida anche. Infatti confezionati anche bene, devo dire. Molto carini. Poi dopo li proverò al Ken, che ho... Che non avete mai visto, perché non l'ho fatto vedere in qualche video. Ho trovato questo Ken, che deve essere di una collezione particolare, perché è abbastanza strano. Insomma, non so neanche se si chiama Ken, non credo si chiami Ken. Vabbè, ve lo farò vedere dopo. Qua c'è appunto la t-shirt, sempre con lo strap dietro. Questo invece ha i disegni sia dietro che davanti, molto carino. Con questa t-shirt appunto con i fiori. Poi i mocassini, che sono, devo dire, che sono fatti veramente bene. E i pantaloni, che hanno un risvoltino, va bene. I pantaloni, anche questi, hanno una stoffa molto, molto bella, molto resistente. Cioè, non ne resta esatta, ma vabbè. Ok, ora, questo è il Ken, che non so se si chiama Ken o se ha un altro nome. Che avevo trovato, vedete, è snodato. Che avevo trovato al solito negozio dell'usato. Indosso un altro completo di Ken, che avevo preso. E le sue scarpe, che sono questi qua. Cioè, le sue scarpe, le scarpe con cui è arrivato. Ok, adesso lo spoglio. E vediamo un po' come gli stanno questi vestiti. No! Hai polpacce troppo grosse. Non riesco a infilarle, no? Oh mio Dio! Questo è un problema, effettivamente. Gli vanno. Come potete vedere, però... Vabbè, non importa. Comunque, no, la maglietta gli sta bene. Gli sta bene. Bene, bene, bene. Ok, adesso gli provo l'altro vestito. Sì, decisamente. Molto carino. Molto carino. Adesso. Adesso, vediamo. Prendo Christophe. Allora, qua c'è Christophe che lo indosso. Un altro vestito di Ken. Che avevo preso. Che l'avevo anche fatto vedere, no? Se non sbaglio. Ah, beh, aspetta che provo solo i pantaloni. Per vedere se... Per vedere se gli vanno. Perché... Volevo trovare un corpo... No, non riesco a infilarli lì. Ah, peccato. Vabbè. Niente. Allora, questi qua vedrò di trovare un altro Ken. Per provarli. Per, insomma... Per farli l'indossare. Oppure... Eh, che Barbie. Sì, no. Boh, vabbè. Vediamo. Vediamo. Ok, adesso. Vi faccio vedere qui gli altri. Qui c'è quello di Bazzmaru. Che... Ah, ecco, così. Ok. Aspettate. Ok. Così. Vedete, con Bazzmaru e un cocodrillo. Fatto così. Qua ci sono le aperture per le braccia. Che non ha... Non ha maniche, praticamente. Colletto. Penso sia tipo colletto alla coreana. O comunque un colletto stretto. Poi c'è la borsetta. Così, che bello. Bazzmaru. E gli occhiali dorati. Così. Ok. Gli rimetto... Gli lo metto a lei. Che, essendo rossa di capelli, mi sa che potrebbe star bene. Allora. La borsetta gliel'ho messa così. Cioè, ragazzi, è bellissima. Le sta benissimo sto vestito. Fantastica. Sì, oddio. Magari senza... Ecco. Così. Anche così. Fantastica. E poi... E poi... Vediamo questo... Chi gliel'ho messo? Sì, dai. Le sta... Le sta abbastanza bene. Non so, magari... Non so, magari... Non mi scegliere un'altra. Vabbè. Farò un po' di prove con le altre. Poi, se mai pubblicherò le foto su Instagram. Sì, questo è un pugno in un occhio, comunque, con l'arancione con il blu. Ma, vabbè. Gli occhiali sono bellissimi, però non stanno bene con il vestito, secondo me. Cioè, gli occhiali sono fantastici. Però, non lo so, starebbero meglio con qualche altro vestito. Vabbè, tanto comunque si possono abbinare anche altre cose. A lei non le sta male. Però, non lo so, devo vedere se trovo qualche altra Barbie da fare, diciamo, da cavia. Ok. Allora, alla prossima volta. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.